La tecnologia e l'innovazione tecnologica quando viene opportunamente guidata da un'azienda che ha diretto contatto con il pubblico ma anche con i contenuti perché la RAI come servizio pubblico produce contenuti e usa la migliore tecnologia facendo da apripista nell'innovazione tecnologica per avere una tecnologia che supporti al meglio i contenuti verso il pubblico, verso la popolazione. La RAI in questo momento è leader, possiamo ormai dirlo, nel sviluppare la tecnologia che da un lato garantisca un miglioramento continuo della qualità visiva quindi con la progressiva evoluzione della definizione si è passati dalla standard definition SD all'alta definizione HD e ora finalmente all'ultra alta definizione UHD o 4K perché il contenuto diventa sempre più accattivante, sempre più catturante e anche coinvolgente e utile quando abbina insieme sia la qualità tecnica video sia il valore ovviamente del contenuto stesso devono esserci sempre entrambe le cose ora la RAI deve assolutamente fare in modo che questi due componenti contenuti e qualità piacevolezza del video e dell'immagine che le informazioni vadano sempre insieme permettendo però che siano fruibili attraverso qualunque rete di distribuzione qualunque terminale di fruizione la RAI ormai sta passando dalle vecchie frequenze televisive radio terrestri alla satellite e anche ora alla larghissima banda con le fibre ottiche per le smart tv e per il web in modo da dare ai nostri concittadini la massima libertà di utilizzare gli strumenti migliori per abbinare al meglio contenuto e qualità tecnologica in qualunque momento del giorno e in qualunque punto dell'Italia è evidente che in particolare il satellite ha un vantaggio rispetto alle altre reti di distribuzione sia quella più antica che sono le frequenze televisive terrestri sia quella più nuova come l'ultra banda in fibra ottica terrestre perché ha il vantaggio di... appunto è un'apripista perché ha una capacità di dare molta più banda e quindi anticipare l'evoluzione verso l'altissima definizione raggiungendo in qualunque punto d'Italia le persone perché non vi sono problemi di ostacoli delle montagne un'antenna che guarda verso il cielo ovviamente non ha ostacoli quindi da questo punto di vista è veramente il nostro prototipo il nostro appripista per far vedere come qualità tecnica abbinata ai contenuti permettono uno sviluppo del servizio pubblico ma permettono anche uno sviluppo dell'industria perché noi vogliamo fare in modo che dietro di noi si crei un ecosistema di aziende grandi o piccole che siano di start-up, di ingegni che contribuiscano sempre di più a questo sviluppo proprio su questo punto l'innovazione forse oggi da soli nessuno... non si può fare nessuno la può fare mettere insieme invece più professionalità proprio come ha fatto Rai può invece andare a mirare all'obiettivo ci sono in questo esempio che si può toccare con mano oggi in particolare dedicato allo sport lo sport è sicuramente un contenuto che ha bisogno di una squadra come la partita di calcio è una squadra è un gioco di squadra e quindi anche noi abbiamo una squadra per giocare questa partita la squadra della Rai insieme alla squadra di TV TVSat insieme alla squadra di Eutelsat insieme alla squadra di BVDOP insieme alla squadra di Vinova e che è questo gruppo di aziende di diverso tipo che messa insieme ma opportunamente anche mi lasci dire guidata dalla Rai è riuscita a far subito fare un salto un passo avanti verso quello che dicevo prima cioè il contenuto supportato dalla qualità della tecnologia può esserci una nuova Rai che in questa straordinaria trasformazione digitale dei nuovi media può orientare su un pubblico che forse non è proprio tradizionalmente quello che storicamente è stato il grande pubblico della Rai il segreto è più o meno quello che menzionavo prima cioè riuscire a diventare fruibili in ogni momento in ogni luogo con qualunque strumento i giovani in particolare non vogliono essere intrappolati o ingabbiati in maniera rigida vogliono avere la libertà di utilizzare gli strumenti diversi ma anche piattaforme di fruizione diverse quindi non è soltanto la televisione grande un 65 pollici e lo si guarda seduti in poltrona ma bisogna anche poter utilizzare lo smartphone o il tablet o il computer o la smart tv a seconda di quali sono effettivamente ormai le abitudini soprattutto delle nuove generazioni quindi reti di distribuzione terminale di distribuzione interfacce nuove e contenuti perché lo sport in particolare è un contenuto che piace a qualunque età dai più giovani ai più anziani ovviamente ma ci sono altri contenuti che invece devono essere più dedicati lo vediamo benissimo come i giovani usano i social network o anche le altre piattaforme che distribuiscono video non si guarda il programma la fiction tradizionale spesso ma si guardano le web series allora anche le web series sono una nuova forma di contenuto che è molto più come dire vicino al modo di socializzare di vivere insieme di comunicare dei giovani rispetto alle generazioni più anziane ma anche le web series sono il risultato di un'innovazione tecnologica la parola web è proprio il segnale che è un contenuto che viene prodotto e distribuito attraverso delle nuove piattaforme come per esempio il web che è un'innovazione